La scuola, in un paese democratico, non può non avere come sua prima finalità e orizzonte l'eliminazione di ogni discrimine. La scuola è di tutti. La scuola deve essere per tutti. Piegava Don Milani, avendo avanti a sé figli di contadini che sembravano inesorabilmente destinati a essere estranei alla vita scolastica. Una scuola che seleziona distrugge la cultura. Ai poveri toglie il mezzo di espressione, ai ricchi toglie la conoscenza delle cose. Impossibile non cogliere la saggezza di questi pensieri e la sua pedagogia della libertà. Il merito non è l'amplificazione del vantaggio di chi già parte favorito. Merito è dare nuove opportunità a chi non ne ha, perché è giusto e anche per non far perdere all'Italia talenti preziosi se trovano la possibilità di esprimersi come a tutti. Come a tutti deve essere garantito.